ciao ragazzi allora questo è il tutorial del brano di george michael la versione che suono è questa ma la metto qui il giro di accordo è sempre uguale re minore sol minore si bemolle la minore però vediamo l'intro quindi mezzo parere sul decimo tasto e poi col terzo dito premete sul dodicesimo tasto prima corta quindi è così potete farlo lentamente pure poi togliete quindi dodicesimo prima corta a decimo una corda che rimane parla il decimo prima corta decimo seconda corta del giro terza corta quindi la destra sarà come volete quindi si usate il pletto fai tutto completo sono state le dita il primo accordo è questo secondo accordo di settimo tasto terza corda sesto tasto prima e secondo un mezzo parre io faccio questo accordo faccia tra volta con re a vuoto la seconda volta con re quindi quarta corda prometto sull'ottavo quindi ripetiamo qui fate questo gioco sol sull'ottavo prima corta e togliete come qui fate sempre prima prima seconda terza quindi l'ottavo quarta corda settimo settesta corda sesto seconda corda prima corda quinto dovete fare questo gioco guardate con l'indice è stato un po' difficile seconda terza ripetiamo quarta quindi seconda terza guarda la mezzo parre sulla quinta seconda terza questa seconda sesto e settimo avanti ottava e nono ovviamente questa è la mia versione che vedete nel video però potete farlo come volete quindi la versione base se volete mettere una percussione quindi viene così dopo la seconda corda fate la percussione ok grazie a tutti Grazie a tutti.